ci ritroviamo con tomas monina serie riaperta ci credete certo ci crediamo l'abbiamo dimostrato stasera purtroppo le prime gare loro sono stati più fisici di noi hanno dimostrato di avere più grinta perché noi siamo entrati molli comunque stasera siamo riusciti bene a giocare in casa nostra offrendo una prestazione di livello quindi tutto ancora da giocare quando è cambiato qualcosa in questa sfida a vostro favore a tuo avviso ma siamo partiti abbastanza bene rispetto al solito poi c'è stato un nostro calo al secondo quarto dopo l'intervallo a differenza di gara 2 ad esempio siamo entrati più convinti quindi non abbiamo avuto il gap debole diciamo come abbiamo avuto appunto in gara 2 pacchetto lunghi giovanissimo come ti stai trovando a giocare e duellare contro il reverie rimbalzi del campionato e i hand fall è sicuramente molto impegnativo cerco di apprendere più che posso come una spugna sia dagli avversari che era comunque altri giocatori che conosco meglio quindi non guardo tanto all'età in realtà cerco sempre di dare il 100 per cento dal campo e appunto a prendere più che posso ma tu giocare con matteo lagana nell'olimpia sì 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 l'ho conosciuto abbiamo giocato mi ha giocato contro un sacco di volte così è un grande giocatore grande amico in bocca al lupo appuntamento a gara 4 un pronostico ci credete certo noi ci crediamo ci crederemo fino alla fine non ci sarà mai una gara dove non ci crederemo grazie mille grazie a voi